diretta ciao a tutti allora oggi proviamo a fa sto make up ma sicuramente verrà una schifezza perché è impossibile di farlo però io ci riprovo perché non sono a mega party quindi ci provo allora cominciamo serve l'oro l'eyeliner e poi e poi boh e poi proviamo io metto un po di televisione bassa bassa che dite la d'urso alla metto un po di zoom oh purtroppo ma però mi dà fastidio abbassa un pochetto ok cominciamo è avete visto quale metto il mio corre che correttore primer ciao cuore proviamo e vediamo che esce amore sto provata a fa quel quel make up ma non penso che non fate caso un unghia fatta una no perché ovviamente me le faccio quando mi pare proviamo allora proviamo a me pare me pare che era mettiamo un po di chiaro di bianco perché mi sembra che era bianco poi c'è stava lineetta nera perché qua non c'è ne oddio faccio un po di bianco prendo il pennellino che mette un po di bianco ok tanto per dai un po di luce o riallargo ok ma che lo so io vorrei provare a fare prima un occhio e poi l'altro che dite ma questo è tanto per dargli un po di luce non capisco perché un videocamera se vedono i colori così accesi diciamo perché ma pure a vuoi lo fa ok beh almeno io non vi annoio no su facebook non capisco perché sto fa con la videocamera quando c'ho lo specchietto ooooh brava ambra allora questo è tanto per dargli un po di luce ok allora mettiamo un po di bianco poi c'era l'oro se mi sbaglio c'era l'oro che ho due tipi di oro i brillantinati eccoli ok poi c'era l'eyeliner ok allora mettiamo un po di oro e alla fine c'era quella lineetta nera che faceva così no allora l'oro lo prendo così vedete bello se va un po qua al centro non fa niente perché tanto ma ragazzi io ci sto provando tanto per provare con voi per passare il tempo per farvi compagnia per rompervi le scatole ma perché sono così scema che non ho preso una foto scusate allora l'oro l'ho messo vedete adesso faccio un po di zoom su quest'occhio e metto l'eyeliner allora proviamo che brutta che brutta oddio Luana non lo so eh no do prendo specchio non posso mettermi l'eyeliner dov'è il mio eyeliner quell'altro ma solo a me capitano queste cose eccolo vediamo proviamo eh allora così mi vedete sì così sì perché cosa vado vado aspettate allargo un pochino però volevo farvi vedere come metto l'eyeliner beh meglio guarda a me che la d'urso no beh non a me piace la d'urso sinceramente poi era così ok mi sembra di sì mica mi ricordo ma perché cavolo non ho messo non ho messo Grazie a tutti. Oh ragazzi ma che silenzio, come sto zitta, neanche se si affa... Devo fare un trucco a fine e non ho fatto un altro. Brava Ambra, brava. Grazie a tutti. Beh, l'eyeliner diciamo che... L'ho messo un po' bene, dai. Un po'. Asciugo con le mani. Però a me non mi sembra per niente come la foto. Ok, vado di qua. Ok, poi. Ok. 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 adesso arriva il bello c'è da fare asciugo allora c'è da fare quella linea non ci riuscirò mai a farla ah c'è una lineetta se voi vedete la foto che da qui fa così io non l'ho mai fatto ed è così carino questo make up che lo lascerei così però non si può ho detto anche se faccio casino lo faccio con voi allora mamma mia ragazza come rovinare il make up allora vediamo un po' la foto ragazze la foto allora un po' più una volta andata la pasta linea l'oro arriva fino a dovesse la striscia quindi io faccio così gli do mi stava a volare madonna raga cioè mi stava a per rompere questo aiuto allora ok però con un pennellino andiamo a sfumare un po' il nero un po' un po' mortacci mia scusate però veramente brava 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 c'è dai che rincoglionita ma solo io mi macchio vabbè non mi tocco più allora non è finito devo fare un po' ok a me sembra un po' uguale un po' un po' allora mi serve un pennellino altro dorato perché bisogna mettere l'oro però meglio che prendo il pennellino il coso specchietto poi prendiamo un po' un po' di oro e mettiamolo qua poi io dovete ogni due minuti l'eyeliner nero o la matita bella puntita la mettete qua al centro qui ok un po' ok poi il mio eyeliner perché devo continuare non è che posso lasciarli così magari non li meno male che avete scelto questo di make up state scelto quell'altro non lo so chi ce la faceva ecco qua fate una puntina e una eccolo oh fatto sembra storto ma non è perché c'è poi ma il bello è fare l'altro occhio ragazze poi mettere lì e mettiamolo un po' qua o le poi prendiamo rimel un po' un po' ecco accontentate con il make up che mi avete chiesto oggi però non è finita perché devo fare anche di qua allora prendiamo la matita prendiamo il temperino e temperiamola bene prendiamo lo specchietto un po' Ok. Poi facciamo la stessa cosa che ho fatto di qua, lo facciamo anche di là, con il pennellino, andiamo a sfumarlo un po', aspettate perché qua la puntina è andata un po' più. Sfumiamo un po'. Ok. Ok. A me sembrano diversi. Ok. 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 Poi prendiamo l'oro. Ok. 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 Adesso si che sto un po' uguale, non vedevo niente. Poi prendiamo, come qua, una matita. Così, vedete? Dove hai l'eyeliner? L'eyeliner? Eccolo. Ok. 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 Facciamo la puntina. Olè. Guardate un po'. Ok. Poi. qua. Qua un po'. Devo fare un po' qua. Prendo il rimmel. Cioè, questi trucchi sono troppo. Qua un po' qua. Quantiорошо. Cioè. Un po' qua. non ci scordiamo l'oro il make up eccolo non è identico ma ci si avvicina molto per non essere una make up artist questo è il make up non riesco eccolo qua se vi piace mi piace ma non è bellissimo perché comunque potevo fare di meglio piano piano mi imparerò insieme a voi e niente se volete sapere qualcosa su i prodotti che uso scrivetemi devo starnutire scrivetemi e io vi dirò tutto quanto un bacio